BluTV ha raccolto in un'intervista il pensiero dei quattro candidati sindaci per la città di Scanzanoionico alle prossime amministrative del 5 giugno 2016. Il programma ha come primo obiettivo i cittadini, sono un po' lontani da quella che è la vita politica. I attivi saranno soprattutto quelli di salvaguardare il nostro territorio, di valorizzarlo per quello che si pensa a fare, a programmare delle cose che non ci sono quando ci dimentichiamo delle cose che ci sono e vanno valorizzate. Scanzano ha bisogno di uno spazio dove i giovani possono aggregarsi, massima apertura ai giovani, massima apertura alla cultura. Questi saranno i nostri obiettivi principali. Sull'immondizia noi già presentammo delle proposte, alcune proposte furono quelle degli ecocombattatori, quindi Scanzano ha bisogno di attuare un vero programma di riciclaggio dei rifiuti. La spazzatura è un business, quindi deve essere un business per i cittadini. Per il mare è da un po' di tempo che l'erosione avanza, però nessuno ha mai fatto niente. Oggi siamo in emergenza a Lido Terzo Madonna, però le promesse e le parole per i fatti non arrivano mai a Scanzano, questo è il vero motivo. Noi ci batteremo che ci siano più fatti che parole. La mia candidatura funziona diversamente dagli altri, si mette a centro le persone che danno la disponibilità di essere candidati e poi tramite gli attivisti si fa una votazione e quindi il nome mio è stato scelto dagli attivisti. Si sono riuniti un po' di ragazzi, di giovani, dove hanno voluto e sostenuto la mia candidatura a Primo Cittadino. Abbiamo condiviso prima il programma, prima della lista, quindi un programma che guarda soprattutto il territorio, quindi turismo, agricoltura, ambiente. Abbiamo il problema dell'immondizia, dove noi abbiamo comunque studiato su questo problema, come risolverlo e lo proporremo sui palchi durante la campagna elettorale. Una lista giovane, fresca, di ragazzi che hanno voglia di fare, di mettere in campo le proprie professionalità. Abbiamo discusso anche di erosione della costa, abbiamo discusso di turismo soprattutto, come investire sul mare qui a Scanzano. Abbiamo fatto dei programmi, abbiamo previsto anche degli investimenti sul territorio di Scanzano che possono portare a nuovi posti di lavoro. Abbiamo pensato anche al co-working, quindi metteremo a disposizione i locali comunali per i giovani professionisti, dandogli un sostegno in modo da poter avviare la propria attività. Tutto qua. La politica ha bisogno di incominciare a voltare pagina e a credere anche nei giovani che in questi anni sono stati abbandonati. Ci credo in Scanzano, Scanzano è la mia famiglia e voglio crederci. Ci vorrebbe un abbassamento di tasse, con un prospetto chiaro che già abbiamo valutato su una serie di cose, proporre il programma che abbiamo a tutti i cittadini. Scanzano deve ritornare al centro del Metapontino. In più i programmi saranno, con queste nuove tecnologie, ho in mente un impianto di illuminazione con i pannelli solari. Al centro c'è il turismo, che è stato abbandonato, l'agricoltura, i giovani, tutti insieme. Dobbiamo lavorare per far sì che si ritorni a fare politica seriamente, con dei progetti seri e validi insieme alla nostra squadra. Dobbiamo raccogliere anche quei tanti giovani che hanno un po' di devianze, voi per motivi di lavoro, voi per altro, avvicinarli alla politica e far capire che nella politica ci devono credere, come ci credo io. Insieme ai giovani noi possiamo avere tanti progetti, tante idee da portare avanti, crederci e sperarci. Ci credo in Scanzano. Scanzano è la mia famiglia e voglio crederci. Il programma che abbiamo in mente tocca svariati punti. Sicuramente il nuovo bando per la raccolta differenziata. La questione di sicurezza sul territorio alla luce degli ultimi episodi e soprattutto va effettuando dei tagli di costi superflui. Provvederemo all'internalizzazione del servizio di riscossione tributi di alcuni uffici, sicché si possano eliminare delle figure e quindi abbassare i costi delle indennità, per poi passare all'aspetto più significativo di quella che è l'amministrazione pubblica in genere, ossia la pianificazione. E nei prossimi anni ovviamente abbiamo l'intenzione di realizzare tutte quelle idee che abbiamo trasfuso. La lista è una lista civica. Chiunque abbia voluto e voglia ancora contribuire a risolvere i problemi di questo territorio, della nostra comunità, è assolutamente il benvenuto. Siamo sempre stati solo diretti all'inclusione, quindi ad accogliere chiunque volesse dare un contributo a questo progetto. Grazie.